Tanti commercianti, tantissimi cittadini. Sono sempre più numerose le adesioni alla manifestazione organizzata dall'imprenditore Raffaele Siano per dire basta all'inquinamento nell'area Venafrana, ma soprattutto per fare richieste precise attraverso una raccolta firme. I cittadini vogliono sapere cosa ne è stato del registro tumori, chiedono che siano mantenute le due centraline fisse per il monitoraggio del traffico e delle polveri sottili, che si provvede a limitare immediatamente il traffico in via Colonia Giulia e che siano resi pubblici i risultati delle analisi sui campioni di polveri sequestrati a fine anno da Carabinieri e Finanza a bordo dei due camion diretti dall'area Ambiente di Pozziglia alla Colacem di Sesto Campano. L'appuntamento è per domani pomeriggio a Venafro. I partecipanti si incontreranno alla sorgente delle quattro cannelle intorno alle 16.30 per poi attraversare le strade principali della città. Uno dei momenti più significativi nella piazza del municipio, dove in memoria delle vittime dell'inquinamento sarà acceso un cero sotto il quadro dei Santi Nicandro Marciano e Daria. Intanto nei giorni scorsi una delegazione delle mamme per la salute ha incontrato il prefetto di Sernia Fernando Guida, al quale è stata tra l'altro ribadita la necessità di fare seguire le analisi sui campioni di polvere sequestrati anche da altri laboratori, oltre che dall'ARPA. Con il prefetto sono stati analizzati anche alcuni dati sanitari provenienti dalla ASREM. Il distretto di Venafro ha il più alto tasso di mortalità per tumori rispetto agli altri comuni della provincia, mentre gli aborti spontanei riscontrati nel 2015 sono del 30% in più rispetto alla media nazionale. Questi dati, pochi ma assolutamente significativi, scrivono le mamme per la salute, confermano la necessità di azioni serie ed immediate. Il nostro territorio è ormai saturo di inquinanti e le ripercursioni sulla nostra salute concludono, iniziano ad essere evidenti anche nei documenti ufficiali.